Salve a tutti, sono Mattia Betti, docente nel settore postura per la Federazione Italiana Fitness e sono qui oggi ad invitarvi al convegno che si terrà il 30 novembre e il primo dicembre a Bologna. L'argomento di quest'anno sarà il body language, la postura attraverso la lettura del linguaggio non verbale del corpo. L'atteggiamento posturale, l'espressione della propria personalità si manifesta attraverso l'espressione del corpo. Nella prima giornata verrà affrontata attraverso delle relazioni di professionisti, gli stessi docenti, Rino Mastromauro, Luca Franzon, parleranno di linguaggio non verbale e di lettura del linguaggio non verbale attraverso quelli che sono i sistemi che compongono appunto il nostro corpo. Nella seconda giornata invece andremo ad ispezionare quelli che sono modi di vivere il nostro corpo attraverso il rilancio di quello che è il sistema salute e il modo di ripristinare quello che è uno stato di funzionalità globale e di benessere per l'individuo. Quindi sono qui ad invitarvi a non mancare il 30 novembre, primo dicembre IPS 2019 Body Language. Vi aspettiamo!